E' iniziato bene per me ma soprattutto è iniziato bene per la Nocerina, non era facile perché comunque dopo 20 giorni di entrare le festività però l'obiettivo era questo qui di ripartire per come avevamo finito l'ultima partita di andata e è andata bene. Io sono contento ma i gol arrivano dalla squadra, la squadra che ti mette in condizione di fare gol e tu devi essere bravo a farti trovare pronto, oggi ne ho fatti due, ne ho sbagliato un altro però l'importante era vincere, vincere e continuare sul lavoro che facciamo durante la settimana perché comunque è frutto del lavoro poi la domenica viene ripagata. Sono contento che la squadra sia ripartita perché non è facile, non è facile perché comunque loro hanno cambiato tanto, una squadra che sinceramente mi sa che non è quella che avevamo visto all'andata, è cambiata quasi tutta, non sappiamo quasi niente però siamo fatti trovare pronti e questo era importante. Martedì penseremo già al Trastevere, domani ci riposiamo, martedì penseremo al Trastevere ma come una partita come è stata questa di oggi perché tutte le partite è una storia a sé, al di là dell'avversario è giusto saperle prendere le partite e portarle poi in a sé, al di là dell'avversario è giusto saperle prendere le partite e porti. Grazie a tutti! Grazie!